Il Signore che ha patito l'abbandono dei Suoi discepoli, il peso di un'ingiusta condanna e la vergogna di una morte infame, ci rende ora partecipi della Sua vita immortale e ci dona il Suo sguardo di tenerezza e di compassione verso gli affamati e gli assetati, i forestieri e i carcerati, gli emarginati e gli scartati, le vittime dello sopprusso e della violenza. Gesù Cristo per amore è morto sulla croce e per amore è risorto. L'annuncio della speranza che non delude del Figlio di Dio che ha calpestato la morte e ha sconfitto l'egoismo spalancando la porta alla misericordia e alla vita eterna è risuonato ancora una volta in una piazza San Pietro in fiore nel cuore dell'umanità. Dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, dopo aver celebrato la Messa di Pasqua, Papa Francesco ha ricordato le voragini spirituali e morali dell'umanità, degli abissi che possono essere colmati solo dall'amore di Dio. Il Pontefice ha auspicato che il Cristo risorto possa indicare sentieri di speranza alla Siria con il suo triste corteo di distruzione, morte, disprezzo del diritto umanitario e disfacimento della convivenza civile, sconfiggendo la durezza dei cuori nelle altre zone del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, in particolare in Iraq, nello Yemen e in Libia. Prima di impartire la benedizione, Urbi e Torbi, Papa Bergoglio ha espresso vicinanza alle vittime del terrorismo, forma cieca ed efferrata di violenza che non cessa di spargere sangue innocente in diverse parti del mondo, invitando poi la comunità internazionale a offrire accoglienza e aiuto alla schiera sempre più numerosa di migranti e di rifugiati, tra cui molti bambini, in fuga dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e dall'ingiustizia sociale. Seguendo le coordinate di un mondo che sembra aver perso i riferimenti della giustizia e della fratellanza, Papa Francesco ha ricordato anche le difficili situazioni in cui versano la Terra Santa, l'Ucraina, il Burundi, il Mozambico, il Sud Sudan e il Venezuela, così come pure i drammatici effetti dei cambiamenti climatici, le persecuzioni dei cristiani, gli anziani, sopraffatti non di rado dalla solitudine e i giovani a cui sembra mancare il futuro. A questa umanità confusa e ferita ha indicato la misericordia di Dio e il suo amore che è per sempre e non muore mai. Ha indicato la presenza di Gesù vivo, presenza che rischiara, conforta, perdona e rasserena. Grazie a tutti.